I tecnici e gli operai di ANAS sono al lavoro per attuare e portare a termine le prescrizioni dettate dalla procura di Arezzo ad ANAS per consentire la riapertura, seppur appunto condizionata, della E45 chiusa dallo scorso 16 gennaio tra le uscite di Valsavignone e Canili. Il provvedimento notificato ad ANAS lo scorso 2 febbraio contiene lavori urgenti e specifici. La E45 potrà essere riaperta a condizione che prima vengano installati un sistema di monitoraggio, un autovelox e la segnaletica che restringe la carreggiata. Le attività di monitoraggio saranno effettuate con un radar e permetteranno di capire in maniera costante ed automatica le vibrazioni che avverranno tramite i sensori. Tocca ad ANAS dunque provvedere all'organizzazione della viabilità per il traffico sulle due corsie interne. Potranno viaggiare soltanto veicoli leggeri con un carico inferiore alle 3,5 tonnellate e con un limite massimo di 50 km orari. Una decisione che taglia fuori il traffico pesante compresi gli autobus degli studenti. A noi non ci risolve assolutamente nulla perché 3,5 tonnellate sono poche, sono poche perché un autobus pesa di più e anche un minibus da 25 posti si va intorno ai 70 quintali. La preoccupazione che questi utenti possano un domani dirottare verso altre zone è sempre maggiore. Quindi l'invito che noi facciamo non solo alle autorità della regione toscana, dalle quali dipendiamo in parte, ma anche alle autorità della regione Emilia Romagna, la provincia di Forlì, per la parte di loro competenza, che si attivino nei limiti del possibile affinché queste determinazioni della procura vengano un pochino riviste. Poi dalla luce dell'importante servizio pubblico che stiamo svolgendo, basta ricordare che sono una sessantina di studenti che quotidianamente vengono in Valtiberina, quindi non solo per noi, per la nostra attività, ma anche per le nostre amministrazioni e le scuole locali sarebbe una perdita ingente. Grazie.